Convento dei padri benedettini nell'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. Dell'antico convento è oggi permesso visitare soltanto la chiesa e il campanile, giungendo nell'isola col vaporetto in partenza dal pontile della Calle Vallaresso. L'isola fronteggia la luminosa costruzione del Palazzo Ducale, oltre il bacino di San Marco, ed è riconoscibile soprattutto per il suo campanile dalla cuspide verde che spicca ancor più sul bianco della cella campanaria. La chiesa è una delle più interessanti di Venezia. Fondata nel X secolo, fu nel 1110 dedicata anche a Santo Stefano, quando un frate proveniente dall'Oriente vi portò il corpo del martire rapito a Costantinopoli. Andrea Palladio la ricostruì a partire dal 1565. È dunque una tipica architettura palladiana, quella che si presenta al visitatore, con la facciata arricchita da quattro maestose colonne, su cui posa il timpano centrale, completata da due ali a capanna che corrispondono alle navate interne. L'interno è perciò a tre navate, la pianta crocelatina con transetto absidale a tre navate. In fondo appare imponente l'altar maggiore e dietro il coro, dove più volte al giorno i monaci benedettini si radunano per cantare le loro lodi a Dio. È composto da 48 stalli, a due ordini, scolpiti in legno di noce, opera dello scultore fiammingo Albert van der Brühl. Nei pannelli degli schienari superiori sono intagliati a basso rilievo episodi della vita di San Benedetto. Nelle campate, all'interno di edicole di gusto classico, si notano le urne e i busti dei doggi Tribuno Memmo e Sebastiano Ziani, che molto fecero per il monastero. Non si potranno mancare nel presbiterio l'ultima cena di Jacopo Tintoretto del 1594, forse il capolavoro dei suoi ultimi anni di attività, la raccolta della manna dello stesso pittore eseguita quando ormai era più che novantenne. Nel coro invernale ci si può fermare ad ammirare lo splendido dipinto con San Giorgio che uccide il drago, di Vittorio Carpaccio, firmato 1516, una variante di quello che si trova a San Giorgio degli Schiavoni. La sala dove questa tela è conservata è la stessa in cui si tenne il conclave dal dicembre 1799 al marzo 1800, cioè in epoca napoleonica, in cui fu eletto Papa Pio VII Chiaramonti, succeduto a Pio VI Braschi, morto prigioniero in Francia. Ma un altro celebre dipinto può essere ammirato se si entra dalla porta di destra del coro, nella cappella della deposizione. Oltre il portale lo stesso dell'antica chiesa prepalladiana, l'occhio corre sopra l'altare su cui è appeso il quadro della deposizione di Cristo dalla croce, ultima opera di Tintoretto, eseguita poco tempo prima della morte. Di fianco alla chiesa c'è il grandioso monumentale monastero, che un tempo fu sede di una fiorente comunità di monaci benedettini. Qui furono ospitati Federico II di Svevia nel 1232 e nel 1433 il gran duca Cosimo de' Medici, esule da Firenze. I francesi nel 1806 lo soppressero e lo trasformarono in caserma. Solo a far data dal 1951, per lo straordinario mecenatismo del conte Vittorio Cini, il complesso poté essere restaurato divenendo in seguito sede della fondazione Giorgio Cini, figlio questi perito tragicamente del conte Vittorio.